Giro, sinistra, destra, ti smalchi di qua, o uomo solo, uomo scarico prima dell'uomo però mi devi guardare, guardami l'aipal, 1, 2, 3, 1, 2, mi smalco ancora, orientato sulla linea, passato l'aipal, porticina, corre pupolo, poi mi smalco, passaggio, orientato di là e mancino dell'altra parte. Grazie. Buona recupera, vai. Vai, vieni, 1, 2, 3, 1, 2 come, 1, 2, vai, fondo, fondo, uomo scarica, sì, vai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 interno, vieni con me, sì ancora, vieni con me ancora, fondo, 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 viso solo, sì solo, vai di là, subito, subito, cambia, passo e gol. Sì, vieni, sbaccati, bravo, solo! Gira, 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 coraggio! Buongiorno! Metto un uomo davanti a me, devo fregare, lo frego come? Facendo più da una parte, quindi carico, forse la gamba a sinistra, vado a destra. Uno, due con me, passaggio, io te la do, me la ridai là, sempre in mezzo tra due paletti. Poi mi posiziono da qua, faccio uno, due, mi smarco ancora, con il numero 36, 35, unico che mi metti, prima di decidere palla. Conduco internamente, guarda là, cerco il mio compagno, sei rivelato con il mio compagno? Passo il passacchino, ha preso la gamba, puoi fare una soluzione? La palla viene da qua, il tuo compagno davanti, mi smarco con il numero, prendo palla, fai uno, due con me, te la rimetto là e andiamo a colpire col mancino. Ok? Quindi passo sempre dietro e quando rifinisce quello del colpire col mancino, bam, col salente, col salente, lo facciamo da parte o posta? L'abbiamo fatto prima a sinistra, adesso facciamo a destra, poi, bam, vieni qua, uno, passo da quella altra parte, due, mi smarco, numero, conduzione, cerco il mio compagno, terzino a sinistra che si apre e si va a vedere, bam! Palla persa, però la recupero subito, rientro, pum, pum, porto via, uno, due e andiamo a ritardo. Allora di me, facciamo? Allora di me, in mezzo, in mezzo, in mezzo, da vedere, dove la vuoi? Da, vieni, uno da con me qua, vai, uno, due, disparchi, numero, numero, numero! Ok, porticina, porticina piccolina, vai, vieni vicino, vieni vicino, vai, si, arrivi la, subito, via! Uno, due con me, tac, dietro, passaggio di teleporta. Buona, vieni, vieni, con salenta, con salenta, con salenta, con salenta, recupero, con salenta, recupero. Adesso andiamo a l'altra parte, vai, su, vieni Mati, vinta destra, vieni alla sinistra, tac, vieni interno, uno, due, disparchi, tre, vado fin da là, numero da, porticina, porticina, Vieni Dani, vieni Dani, vieni Dani, uno, due, disparchi, vai, disparchi, vai, numero, numero, vieni la, porticina, 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 eccoli qua, vieni, disparchi, vai, vieni, ci ricordo, tiro. Vieni, 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 vieni Recupera, buona Dani. Mister, lavoro tecnico che stai facendo? Al di là che aumenta la sensibilità poi anche del tocco, no? Ma poi c'è anche lo smarcamento, quindi anche il situazionale fai. Sì, infatti lavoriamo soprattutto nel ruolo suo, un centrocampista deve avere visione del gioco, smarcarsi, utilizzare bene la forza delle gambe, per smarcarsi, orientare il pallone, sono cose che comunque noi curiamo e cerchiamo di dare quelle impronte importanti ai ragazzi. Lui, un ragazzo ci ha confermato, ha fatto 80 CDB, Lega Pro, ragazzo che abbiamo convissuto in campo insieme, e quindi oggi mi è venuto a trovare, stiamo facendo un lavoretto molto specifico per riprendere quella sensibilità, quel qualcosa in più che abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di questo, l'orientamento, la sensibilità, utilizzare bene le forze. Dani è un professionista, quindi ha calcato campi importanti, livello superiore, la differenza che trovi con i ragazzi, invece con il settore giovanile, rispetto a Dani che è un professionista. Lui ha un vissuto, lui ha un vissuto, ha cresciuto, ha lasciato le consapevolezze, i ragazzi di oggi, parliamo dei piccoli ragazzi, anche ragazzi che hanno dei tattri, dici, dici, dici anni. Riesci a portarli però a dei livelli alti, vero? Facendo questo tipo di lavoro. Allora, i ragazzi sono delle spugne, più li diamo, più prendono, quindi penso che sia questa la base di tutto. Toccare tante volte la palla, toccare tante volte la palla, un po' come... Toccare tante volte la palla, ma delle volte vi c'è a toccare anche poche volte, e di riuscire comunque a sviluppare un'azione, a cercare di vedere tanto il campo, che quindi sono le cose fondamentali, che i bimbi hanno, che abbiano delle consapevolezze, sapere dove sono posizionati in campo, la distanza dei avversari, quindi avere una visione di gioco, non soltanto il centrocampista, l'attaccante, ma soprattutto il difensore, i portieri. I portieri, anche la mia scuola. I portieri, la visione del gioco. Infatti quello che si... Sono quelli che vedono tutto, quindi è tutto, è tutto. Bene. Ragazzi il 10, De Orasio. Dani, bocca al lupo e buona giornata a voi. Ciao ragazzi. Vai Leo, 1, 2, 3. Vai, quella, destro, sinistro, via. Adesso 1, 2, 3 laterale. Vai, bravissimo Leo, bravissimo Leo, bravissimo Leo. Vai, su, andiamo, su. Bravissimo, ok. Adesso mi fai uno dentro, uno fuori, uno dentro, uno fuori. Ok, vai. Sì, molto bene. Dai con la coordinazione. Continuiamo quello che fa un pochettino anche Orasio di là. Andiamo, su. Vai, l'altra parte, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, colpisco ancora. Vai, destro e sinistro, bravissimo. Ok. Adesso facciamo quella. 1, 2, ritorno, 1, 2, ritorno. Tutto da una parte. Capito? Vai. No. Solo con un piede. Il sinistro rimane, il destro adesso rimane lì. No. Quella così. Tac, tac, tang. Te lo ricordi? Aspetta, eh. Vai. Bravissimo. Eccolo lì. Sì. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Su, colpisci. Bravo. Su, sta in movimento. Bravissimo. Ok. Via dall'altra parte. Bravo. Sì. 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 Vai, colpisci. Andiamo su. Eccolo là. Bravo. Stop. Molto bene. Andiamo su, 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 su. E mi sposto. Ok. Bravo. Via. Lo rifai da questa parte. Molto bene. Vai. Su, 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 su. Eccola lì. Sì. Leo, di che anno sei? 2012. Vai. Su, 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 su. Ancora. Ok. Bravo. Dentro la scaletta, Leo. Muovi molto di più veloce le braccia. Ok. Del resto va tutto bene. Muovi veloce. Bravissimo. Eccolo lì. Bravo. Ok. Andiamo dall'altra parte, Leo. Muovi bene le braccia. Poi, vai. Su, 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 su. Ok. Fermo. Guarda la palla. Sì. Bravo. Andiamo. Vai. Sì, veloce, 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 veloce. Guarda la palla. Sì. Ok. Spostati appena appena se la palla si sposta. Ancora uno. Andiamo. Su, 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 su. Fermo. Ok. Guarda la palla fino alla fine. Rifanno un altro. Metti le mani. Tira fuori le mani, eh, Leo. Vai, 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 vai. Fermo. Tira fuori le mani. Bravissimo. Eccolo lì. I più piccoli. Gira. Uno. Fondo, fondo, fondo. Orientato di là. Uno dopo il me. Uno dopo il me. Interno. Uno. Due. Dismarco fondo. Fondo, fondo, fondo. Adesso l'utilizzo interno. Orientato. Interno alzio la testa. Va meglio questa che l'altra. Grande. Buona. Facciamo anche noi? No, è poco po' il gatto adesso per te questo. Andiamo a fare altro. Dopo lo facciamo, eh. Adesso andiamo giù. Metti bene il piede. Vai. Spostamento veloce. Sposta fermo. Attacca palla. Su. Via, mi alzo veloce. Posizione. Bravo. Ancora. Vai. Metti bene il piede. Dai. Spostamento. Posizione. Attacca palla. Su. Ehi, mi alzo su veloce. Eccolo lì. Va bene. Andiamo dall'altra parte, Leo. Bravo, Leo. Così. Cura bene il piede, eh, sempre. E anche la rialzata, eh. La rialzata. Metti bene lì il piede. Non lo spostare, ok? Metti dentro il piede destro. Vai. Spostamento, spostamento. Fermo. Attacca palla. Bravissimo. Palla me veloce. Su in piedi. Bravo. E guardo la palla. Eccola lì. Andiamo. Molto bene. Metti dentro il piede. Vai. Spostamento veloce. Fermo. Su. Ok. Vieni. Su veloce in piedi. Su veloce in piedi. No, non importa che arrivai là. Mi alzi, ti alzi in piedi e ti fermi sul posto, ok? Voglio questa adesso. Lo stai facendo molto bene. Cura bene lo spostamento con i piedi. Metti bene il piede destro. Paralleli i piedi. Sei storto. Devi mettere i piedi verso il campo. Bravo. Eccolo lì. Via. Spostamento, spostamento. Fermo. Attacca palla. Su. Vieni. Alzati veloce. Fermo lì. Bravo. Un'altra. Dai. Via. Spostamento, spostamento. Fermo. Attacca palla. Bravo. Sui piedi veloci. Fermo lì che tiro. Eccolo lì. Bravo. Eccolo lì. Bravissimo. Bravo. E là come lo avete visto prima, qui è stato a livello coordinativo, di tecnica, giocatori, portieri, collaborazione con Orasio, con il DS. E' tutta completa la nostra scuola. Marco Fondo, tutti i direi dentro in mano. Tira. Uno, due. Interno. Interno. Eccolo l'antico. Buona. Ok. Andiamo a lavorare sulla spinta. Spostamento e spinta. Ok. Vai. Veloce. Veloce. Fermo. Attaccala. Bravo. Su il piedi. Veloce. Rapido. Sì. Eccolo là. Via. Dall'altra parte fallo. No, no. Fallo di là. Fallo di là. Facciamo da una parte e dall'altra. Metti bene il piede. Via. Spostamento veloce. Su. Andiamo su. Attacca. Guarda la palla. Fili. Sì, fili. Leo. Vieni in avanti col piede. Sposta il piede in avanti spinta. Vai. Vai. Veloce. Fermo. Su. Vieni in avanti. Eccola lì. Bravissimo. Su veloce. Molto bene. Fallo di là. Bravo. Guarda sempre la palla. Metti dentro il piede. Spostamento veloce. Fermo. Attaccala. Bravo. Sui piedi. Rapido veloce. Eccola qui. Bravo. Bravo.